Musica dal vivo, teatro, danza, burlesque, proiezioni, seminari e sessioni di trucco scenico. Amami Teatro al Maruccino, la rassegna organizzata da Deputazione Teatrale, FAI e CNA, è iniziata il 13 dicembre con spettacoli, lezioni aperte e visite guidate continua. Questa mattina è stata dedicata agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che hanno potuto visitare tutti gli ambienti del teatro, anche quelli solitamente inaccessibili al pubblico, come il sottopalco. È stata allestita anche una mostra nel foyer di strumenti musicali e di artigianato locale a cura di CNA. La rassegna prosegue fino al 18 dicembre, cinque giorni ininterrotti di spettacolo dal vivo con artisti straordinari provenienti da ogni regione, come ha sottolineato il direttore artistico, il maestro Giuliano Mazzoccante. Sul palcoscenico, spettacoli di ogni genere, dalla musica classica dei solisti aquilani fino al rock psichedelico. Grande rilevanza è stata data anche ai temi sociali. L'attore Federico Perrotta porterà sul palcoscenico 12 ragazzi in carrozzina durante il suo spettacolo. Grazie alla collaborazione con l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, gli spettatori possono assistere anche fino a tardanotte a lezioni aperte e tenute da docenti dell'Ateneo sulla storia del teatro, il cinema e la letteratura. Oggi sono concentrate diverse cose, innanzitutto nel pomeriggio, vi parlo del pomeriggio e serata, la danza classica alle 19, poi altre varie attività, la storia della disco music molto bella con Bufalini e Savastano, ma alle 9 e mezza, questa è una cosa molto importante, la proiezione del film Mutual The Lodger di Alfred Hitchcock con musiche originali della Silent Film and Live Music e poi verso le 23 The Cloud Blues, che è un complesso blues che quindi ci delizierà con le loro note. Insomma è un bel programma, sì, siamo molto contenti della riuscita di questa manifestazione, siamo al terzo giorno e molto molto soddisfatti, veramente dei grandi artisti di gran livello e un'affulenza di pubblico più che buona.